Ciao ragazzi, volevo dire bella ragazzi Bella ragazzi, qui Blu e Tony e stiamo parlando degli aggiornamenti di YouTube In particolare dell'integrazione di Google Plus Molti sono andati in crisi e quindi ho deciso di fare questo video Ci sono i pro e i contro Parola a Tony Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video Questo è il primo commentary che faccio con Blu Passiamo subito al soldo Praticamente oggi voglio parlare di questi aggiornamenti di Google Plus Che sono cose fondamentali che vi dobbiamo dire Perché vi dobbiamo dire due cosucci Allora, la prima ragazzi è che praticamente tutti da ora in poi Dovranno avere questo aggiornamento, ovvero Google Plus Non c'è santo che tenga Dovete farlo, è per forza Perché praticamente Se non abbiamo questo Google Plus Non possiamo più seguire i nostri YouTuber Non possiamo commentare video Non possiamo lasciare like e cose varie Quindi questa è una cosa purtroppo negativa Dal mio punto di vista Perché è moda Da oggi in poi Se non vi mettete questo Google Plus Non potete fare un cazzo Sì davvero Quindi praticamente Sirei costretti con il fucile puntata alla tempia E quindi vi dovete fare per forza questo aggiornamento Poi ogni cosa Pensiamo ogni cosa che farete Su questo Avendo questo account Google Plus Se sempre commentate i video O mettete mi piace Cioè i YouTuber riceverà le feed Tramite questo Google Plus notifiche Avete presente la campanellina lì in alto? Finco pallino Con la linea dell'intervallo Finco pallino ha messo mi piace Finco pallino ha condiviso Eccetera eccetera E le cose fondamentali Cioè adesso Principalmente sono queste Adesso lascio un attimo la colora blu Che vi deve dire altre cose Allora in buona sostanza Quando la campanellina di YouTube si accende Voi potete vedere Se un vostro video è stato commentato Condiviso O messo mi piace Su Google Plus Quindi Google Plus riceve esattamente tutto quello che voi fate Se caricate video Se commentate Quindi è una rete veramente enorme E vi consiglio innanzitutto di iniziare a usarla Sì è per forza È per forza A meno che non vogliate vedere i vostri video da soli Sì allora cosa succede Google Plus è un nuovo social network Quindi esattamente come Facebook Come Yahoo È stato lanciato dalla Google Nel mondo di internet E vogliono far sì che molti utenti Ci entrino tutti assieme E usare i commenti di YouTube Per fare questa cosa È stata una cosa fondamentale Per farlo partire diciamo E se voi caricate un video Appare in automatico su Google Plus E quindi ha tantissima visibilità Quindi i vostri video vanno Vanno su Google Plus Se voi siete miei iscritti E siete su iscritti su YouTube O iscritti di Tony E siete iscritti su YouTube Venite E ci ritroviamo tutti su Google Plus Plas Plas Se vi fa piacere Poi un'altra cosa importante Riguardo invece a delle monetizzazioni Ho letto che è apparso una nuova sezione Nelle impostazioni del canale YouTube Che per certi video si può impostare La possibilità di mettere dei video a pagamento Ma è una cosa che verrà fatta in futuro Cioè è ancora in elaborazione Ma probabilmente Non è una cosa sicurezza Io penso che se metteranno dei film su YouTube Magari ci saranno dei film Se voi vorrete vederli Dovrete ad esempio pagare Per poter vedere quel contenuto Appunto Per un'altra cosa importante Scusami se siete derrotto Che devo dire Che praticamente Con questo nuovo aggiornamento Se voi non avrete Google Plus Cioè se per esempio Voi non avete questo account E vedete quel vecchio account E non fate questo aggiornamento Se voi per esempio Vi lasciate un commento Sotto il nostro video Magari Noi non vi possiamo rispondere Perché non fate parte di Google Plus È un casino Non possiamo rispondere Quindi se voi per esempio Non vedete che Noi non vi rispondiamo Non è perché Ci state sui coglioni Perché non possiamo Ecco Non ci dà la possibilità di farlo Questo è il punto Sì quindi ragazzi Semplicemente mettetevi Google Plus È una cosa semplicissima Così È tutto lì Un'ultima cosa Se volete che ci siano Buone interazioni Tra YouTube e Google Plus Andate a sistemare Anche le impostazioni Di Google Plus Tutto lì Così vi regolate Per bene Tutto ciò che vi serve Non stiamo qua adesso noi A fare Cioè A dirvi Come regolare Qua e là Comunque i vostri commenti Su Google Plus Ci appaiono allora Anche da oggi Su YouTube Comunque Sì sì Tutto quanto Importantissimo La funzione del coinvolgimento In preghe parole YouTube Metti in rilevo Un video Grazie ai mi piace E ai commenti Se voi Non potete più commentare Noi siamo nella cacca Quindi Questo è il motivo Se lo dovrebbe amare Di questo video E vorremmo anche condividere Questa novità Ho visto molti video Aggiornamenti Dappertutto E questo mi è sembrato Il più completo Tutto qua Per voi L'abbiamo fatto E appunto E quindi Quindi Bella E quindi E quindi A parte Quindi Principalmente Era di questo Che dovevamo parlare Perché erano cose Importanti Fondamentali Che vi dovevamo dire Ecco Perché Perché Questo aggiornamento Avevo dei pro E dei conto Ultima cosa Continueranno ragazzi Gli sponsor Continuano Non vi preoccupate Continuano gli sponsor Continuano i minigames Abbiate pazienza Ho tanti video privati Abbiate pazienza Usciranno Tutto qua Scusa il mio spazio Da spammone Vabbè Vabbè ragazzi Io direi che questo Questo video Si conclude qua No? Si può finire Vabbè Perfetto ragazzi Se vi è piaciuto Commentate Lasciate un like Sempre se avete Lasciate Google Plus E Alla prossima Alla prossima Bye bye